Andiamo a cose importanti. Andiamo chiuso per 11 puntate. Esatto. Cosa è accaduto? Non siamo stati incisivi. Tu che sei, tu che sei abituato, lo conosci. Ho capito, lo conosci. Allora, Lello, innanzitutto voglio pensare a una cosa. Porti piano. Porti piano. Lello, ma quando sei nato, mamma ti ha rotto l'acqua e l'ha tirata a cadere. No, 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 no. Per capire tutti i due della... No, 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 no. Perché avevo pensato di invitarvi alla prima puntata. Grazie, perché fosse voluto. E poi voglio dire un'altra cosa importante. Cioè, per chiudere, Lello, conti si potrebbe andare per ore, però noi non vogliamo stare delle ore qua, su Lello Musio, che è tempo veramente inutile. Però, Lello, ti voglio dire solamente... L'ultima offesa? L'ultima offesa, e non ne parliamo più. Lello, tu sei talmente inguaiato. Lello, che se vai a Lugia, maronna di Vira, sai che dici? Sono tanti anni che fai giusto possibile, ma veramente pensiamo in tene di difficoltà. E poi, se ne va bene di... 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 Ce ne va bene di una canzone, se capisce quello che dico, che sembra una panettata, il perfume è importante. Ma ce ne va bene di... Ma ce ne va bene di... Ce ne va bene di... E poi, se ne va bene di difficoltà. No, ne va bene di... E allora, è bravo. Allora, facciamo un po' con lui. Allora, e andiamo a... E allora, iniziamo. Ce ne va bene di battaglia. Yeah. E si, di te sobra. E battete, cioè... Bapango! Grazie a tutti.